Una collaborazione internazionale tra l'IRCS Neuromed di Pozi, della Wazong University of Science and Technology in Cina, ha portato allo sviluppo di un innovativo strumento PET per lo studio delle patologie neurologiche. Questo strumento, che in pratica sembra un elmetto, si distingue per la sua portabilità e per la possibilità di eseguire scansioni con il paziente in varie posizioni, in piedi, seduto, sdraiato, offrendo quindi maggiore flessibilità e comfort. Il processo di sviluppo e i risultati della valutazione di efficacia del nuovo elmetto PET sono stati pubblicati sulla rivista scientifica Transaction on Radiation Plasma Medical Science. Nel lavoro scientifico vengono esaminati gli aspetti innovativi di questa progettazione e vengono riportati i dati degli esperimenti condotti su esseri umani. Un aspetto molto importante per la rapida implementazione di questo dispositivo nella pratica clinica, soprattutto nel campo della diagnosi precoce delle patologie neurodegenerative come la malattia di Alzheimer. Il design emisferico dei rilevatori, spiega Nicola D'Ascenso, responsabile del Dipartimento di Innovazione in Fisica e di Ingegneria del Neuromed, unito all'uso di una specifica tecnologia, ci consente di ottenere immagini di alta qualità e di elevata precisione. Tra i vantaggi dobbiamo evidenziare anche la possibilità di utilizzare dosi di radiofarmaco più basse e la riduzione dei tempi di scansione. Un risultato reso possibile dalla sinergia tra esperti nel campo della neurologia, radiologia ed ingegneria medica, impegnati nella realizzazione di quello che rappresenta un notevole avanzamento nella diagnosi e nel monitoraggio delle malattie neurodegenerative. E la collaborazione prosegue, proprio come spiega D'Ascenso. Siamo ora impegnati nel validare ulteriormente le prestazioni di imaging dell'Elmetto PET. Al tempo stesso stiamo progettando nuovi avanzamenti tecnologici per ottenere un contrasto d'immagine, una risoluzione e una copertura geometrica ancora migliori.